Guardare l'area del Mediterraneo come questo luogo di incontro che possa facilitare soprattutto anche la dinamica di un'accoglienza, generare un percorso di ospitalità. Sembrerebbe fare eco quelle parole della lettera agli ebrei quando dice che senza saperlo, praticando l'ospitalità, si stanno accogliendo degli angeli. E credo che forse questo dovrebbe essere il messaggio che maggiormente debba aiutarci a sapere accogliere la novità. Qual è l'ostacolo principale che impedisce ai pugliesi per esempio di accogliere serenamente l'altro che arriva? Certamente non è che c'è una soluzione a questo, bisogna crescere sempre più nella consapevolezza di una fraternità universale e soprattutto della dinamica di saper comprendere che davvero chi inizia un viaggio che può diventare un viaggio della morte ha nel cuore un desiderio grande di libertà. La Chiesa sotto questo aspetto diventa punto di riferimento? Certamente la Chiesa annuncia questo principio di libertà e di accoglienza, ma soprattutto di rispetto e la dignità della persona umana.